Buongiorno ragazzi, questo è un video teorico, però secondo me è molto interessante. Abbiamo parlato nel video precedente degli enunciati di Clausius e degli enunciati di Kelvin. L'enunciato di Kelvin riguardava come conseguenza l'impossibilità di creare una macchina termica il cui unico risultato fosse quello di trasformare integralmente il calore assorbito in lavoro, mentre sostanzialmente l'enunciato di Clausius come conseguenza aveva che non si poteva costruire una macchina frigorifera che permettesse il passaggio integrale di calore dalla temperatura più fredda, da un corpo a temperatura più fredda, a un corpo a temperatura più calda. E adesso vi faccio vedere una cosa. Visto che noi, vi ho detto, non riusciamo a dimostrare che l'enunciato di Clausius è vero, però vi faccio vedere che se noi diciamo che, ad esempio, non vale l'enunciato di Clausius, allora non vale neanche l'enunciato di Kelvin. E vi farò vedere che se non vale l'enunciato di Kelvin, allora non vale l'enunciato di Clausius. E quindi l'idea è che questi due enunciati sono un po' come due carte che si sostengono insieme, nel senso che se non vale una, allora non vale l'altro. Infatti, ragazzi, ho sempre immaginato i due enunciati di Clausius e di Kelvin come due carte che si tengono l'una con l'altra. Cioè, non è che noi abbiamo dimostrato che l'enunciato di Kelvin è vero, solo che abbiamo, anzi, dimostreremo, che questi due enunciati stanno in piedi insieme, ok? Nel senso che se è vero uno è vero l'altro. E infatti noi dimostreremo, infatti, che se non è vero uno, allora non sarà vero neanche l'altro. Quindi dovete proprio immaginarli in questo modo. Uno sostiene l'altro. Questo per rafforzare l'idea, fatto che i due enunciati sono equivalenti. L'esistenza dell'uno pregiudica l'esistenza dell'altro e la non-esistenza dell'uno pregiudica la non-esistenza dell'altro. Appunto, sono due carte che si tengono su l'una con l'altra. Allora, ragazzi, andiamo a vedere il primo fatto. Cioè, io adesso vi dimostro che se non vale l'enunciato di Clausius, allora non vale l'enunciato di Kelvin. Allora, quindi dobbiamo creare una macchina proibita di Clausius, perché noi vogliamo dire che l'enunciato di Clausius è sbagliato. Allora, visto che Clausius dice che è impossibile fare una cosa, noi invece la rendiamo possibile. Quindi cominciamo con la prima. Se non vale Clausius, non vale Kelvin. Allora, se non vale Clausius, vuol dire che, visto che Clausius dice che non si può realizzare sostanzialmente una macchina frigorifera, il cui unico risultato sia il passaggio di calore dal corpo freddo al corpo caldo, andiamo quindi a prendere il nostro corpo a temperatura, appunto, TF, e poi invece un corpo caldo a temperatura TC. E allora andiamo a creare quella che è una macchina proibita di Clausius, quindi faremo C sbarrato, nel senso che è una macchina proibita. Allora, cosa fa ragazzi una macchina di Clausius proibita? Allora, sostanzialmente significa che passa un calore Qf attraverso questa macchina di Clausius e arriva integralmente un calore Qc uguale a Qf verso la temperatura calda. Questa è una macchina proibita di Clausius, perché una macchina invece reale, ok, che va bene per Clausius, vorrebbe l'emissione di lavoro. Questa cosa è proibita. E poi costruiamo di fianco un, invece, una macchina attenzione reale di Kelvin, quindi una macchina termica che segue la legge di Kelvin. Costruita in questo modo. Allora, questa macchina di Kelvin cosa fa? Allora, assorbe un calore, che chiameremo Qc1 per differenziarlo, ok, da quello di prima. La macchina produce un certo lavoro e cede, ok, alla temperatura fredda un calore Qf uguale a quello che invece assorbe questa macchina proibita di Clausius. Bene, quindi facciamo un'ipotesi di una macchina che funziona così. Allora, cosa osserviamo? E qui vediamo se tutti capiscono, perché di solito, a parte che di solito è spiegata male, però è difficile anche capirla. Allora, ragazzi, adesso l'idea è di guardare queste due macchine come se fossero un'unica macchina, ok? Cioè di creare una sorta di macchina equivalente, vedendo questa macchina sostanzialmente cosa fa tra TF e TC. Quindi se noi guardiamo, diciamo, l'effetto totale, ok, di questa macchina, cosa vediamo? Allora, è un'unica macchina, vediamo cosa fa. Allora, dal punto di vista del lavoro, beh, la prima non fa niente di lavoro e la seconda crea un lavoro, ok, che esce dal sistema. Poi, dal punto di vista del calore, tra TF e la macchina, sì, questa macchina non succede niente, perché vedete, qui passa QF in una direzione e qui QF, e sono uguali questi due calori, nell'altra direzione. Quindi direi che non c'è scambionetto di calore tra TF e questa macchina. E poi, quanto, ragazzi, quanto invece calore passa tra la macchina e TC? Perché, allora, ovviamente, quanto vale, ragazzi, QC1, visto che QC1 viene assorbito dalla macchina Kelvin e la macchina Kelvin butta fuori un lavoro L e QF? Ovviamente vale L più QF, ok? Questa cosa ve la potevo dire anche prima. Quindi, da TC alla macchina, effettivamente, quanto calore passa? Allora, sostanzialmente, qui, nella macchina anticlausius, sale un calore QF, e qui, invece, scende verso la macchina il lavoro che fa L più QF, ok? Quindi, ovviamente, nettamente scende, ok, da TC a questa macchina, beh, che cosa? Bisognerebbe fare L più QF meno QF, ok? E quanto fa? Più QF meno QF fa 0. E quindi, ragazzi, cosa ho creato? La macchina termica, ok, perché prende energia della temperatura calda e la trasforma in lavoro, però trasforma, è una macchina a rendimento unitario, cioè, trasforma tutto il calore che arriva, che vale L, in L. Vedete che questi due numeri sono uguali. E questo, per l'enunciato di Kelvin, non vale, perché non si può costruire, per l'enunciato di Kelvin, una macchina che trasforma integralmente, come unico risultato, il calore preso da una sorgente a temperatura più calda, tutto in lavoro. Vedete quindi, siamo partiti da una macchina, ok, che non esiste per Clausius, e da una macchina che esiste per Kelvin, e abbiamo creato una macchina che non esiste per Kelvin. Quindi, se l'enunciato di Clausius è falso, allora è falso anche l'enunciato di Kelvin. E quindi, se cade Clausius, cade Kelvin. Partiamo a dimostrare la seconda cosa, cioè che se non vale Kelvin, allora non vale Clausius. E come facciamo? In realtà, in modo molto simile, nel senso che adesso noi prenderemo una temperatura Tc, qui una temperatura Tf, e allora adesso andiamo a prendere, allora se non vale, ragazzi, Kelvin, allora se non vale Kelvin significa che noi riusciamo a trasformare integralmente il calore in lavoro. Quindi, prendiamo ad esempio un calore QC, ok, che riesce ad essere convertito integralmente in lavoro, e quindi questo lavoro vale QC. Questa è una macchina di Kelvin impossibile. E poi ci mettiamo invece una macchina di Clausius, ok, che invece è possibile. Quindi, cosa fa una macchina di Clausius che esiste? Prende un calore QF, ok, e assorbe, vedete, un lavoro, che è questo qua, perché il lavoro prodotto da questa macchina impossibile di Kelvin viene assorbito da QC, e mi va a quindi creare, vedete, questa macchina di Clausius assorbe QF dalla temperatura fredda, assorbe, diciamo, subisce il lavoro da questa antimacchina di Kelvin, e quindi il calore che passa dalla macchina di Clausius possibile a Tc sarà ovviamente QC più QF. Allora, ancora una volta, se noi andiamo a vedere queste due macchine come una macchina equivalente, ok, e guardiamo soltanto gli scambi che questa super macchina ha con le due temperature, cosa andremo a evidenziare, ragazzi? Che questa macchina, allora, dal punto di vista del passaggio di calore tra Tf e la macchina, passa qui un calore QF, che il sistema assorbe. Poi, va bene, tra le due macchine c'è scambio di energia, ma la macchina in sé, ok, scambia energia con se stessa, ma non è rilevante, e anche perché, diciamo, questa macchina butta fuori un'energia pari ad L, e poi la riassorbe, quindi, diciamo, lavoro nullo. E come scambio di calore, ragazzi? Con la temperatura calda? Allora, dalla macchina esce un QC più QF, ed entra un QC. Quindi, ovviamente, nettamente è maggiore, diciamo, l'energia che passa qua, perché è QC più QF, quella là è solo QC, e quindi, nettamente, alla temperatura QC, alla temperatura TC arriva QC più QF meno QC. QC meno QC lo tolgo, ok, e rimane, che cosa? Una macchina equivalente, che era una macchina equivalente fatta da una non Kelvin e da una C Clausius, diciamo, e che cos'è questa macchina? È una macchina che riesce a trasformare, diciamo, a trasmettere integralmente tutto il calore, vedete, QF e QF sono uguali, da un corpo freddo a un corpo più caldo, che è impossibile, per l'enunciato di Clausius, ok? Quindi, ho creato una macchina impossibile di Clausius, partendo da una macchina impossibile di Kelvin, e quindi, se cade Kelvin, cade Clausius. E quindi, è per quello, ragazzi, che possiamo dire che gli enunciati sono equivalenti, perché tanto, se cade uno, crolla anche l'altro, quindi stanno in piedi insieme, ok? Quindi, ripeto, se non vale Clausius non vale Kelvin, se non vale Kelvin non vale Clausius, allora ciò è equivalente a dire che se invece vale Kelvin deve valere Clausius, e se vale Clausius deve valere Kelvin.